Questo video illustra l'esame obiettivo del torace per quanto riguarda la visita medica dell'apparato respiratorio. Prima di iniziare illustreremo i punti di repere e le linee topografiche per quanto attiene il torace nel suo versante posteriore. Indichiamo prima delle linee orizzontali, in particolare una linea che passa per i margini superiori delle due scapole e in terza la colonna al livello della settima vertebra cervicale. Quindi una linea che passa per i due angoli della scapola, gli angoli inferiori della scapola, scapola destra e scapola sinistra. Simona è molto magra, è la nostra paziente, per dei soggetti che sono un po' più corpulenti, un po' più grassi, è facile individuare l'angolo della scapola facendo fare questo movimento all'indietro. Ecco, vedete, il braccio deve essere piegato, ecco così, vedete l'angolo della scapola che viene fuori. Dopodiché un'ultima linea che rappresenta il limite inferiore del torace è la linea che passa per i due archi costali delle dodicesime coste, che sono l'ultimo paio di coste fluttuanti. Abbiamo poi chiaramente delle linee orizzontali e in particolare la linea spondiloidea che passa per la colonna vertebrale e la linea cosiddetta paravertebrale che si trova a circa 3 cm dalla linea spondiloidea, una linea che passa per l'angolo scapolare inferiore e ovviamente giunge fino alla linea che avevamo precedentemente definito tra gli archi posteriori del dodicesimo paio delle coste. L'intersezione di queste linee può definire delle aree. La prima area che descriveremo è l'area interscapolo vertebrale che è delimitata dal margine mediale della scapola, dalla linea spondiloidea, dalla parte sinistra in questo caso della linea che congiunge i margini superiori delle scapole l'una con l'altra e quindi dalla linea che unisce i due angoli inferiori delle due scapole. Lateralmente a questa area vi è l'area scapolare, la regione scapolare. Inferiormente tra la linea che interseca l'angolo scapolare inferiore e la linea spondiloidea da una parte, e la stessa cosa ovviamente in sede controlaterale, fino alla linea che congiunge i due archi posteriori delle dodicesime coste, questa regione la definiremo regione sottoscapolare. Il riferimento a queste regioni è importante perché i reperti che dovessero essere riscontrati nel corso di un esame obiettivo potranno essere riferiti a queste regioni di carattere anatomico definite topograficamente. Dobbiamo a questo punto fare assumere a Simona una posizione idonea perché possa svolgersi la visita medica dell'apparato respiratorio. Quindi invitiamo Simona a portare il corpo leggermente in avanti, collo un po' più in su, e le braccia ecco sulle gambe in questo modo. Le braccia si possono anche tenere concerti in avanti, ma così il paziente starà più comodo. I tempi dell'esame obiettivo sono sempre gli stessi, ispezione, palpazione, percussione e ascoltazione. L'esame obiettivo del torace è un esame obiettivo che effettivamente completa proprio l'iter logico di tutte queste varie fasi, di queste quattro fasi di cui appunto è costituito un esame obiettivo in generale. Iniziamo quindi con l'ispezione. L'ispezione del torace inizierà valutandone la forma. La forma del torace può essere come in questo caso di tipo cilindro conico, ma potrebbe essere anche cilindrica, o addirittura assumere delle forme patologiche, come per esempio svasato ai lati, con le coste elevate e svasate appunto lateralmente, come se fossimo di fronte a una botte, e in questo caso avremmo un torace cosiddetto appunto a botte caratteristico di un soggetto affetto da enfisema. Dopodiché passiamo ad osservare i piani cutanei superficiali senza toccare il paziente e vedremo che in questo caso, per esempio, ci sono dei piccoli nevi o delle pigmentazioni, ma senza nessun interesse particolare. L'esame degli annessi cutanei sul torace, soprattutto sul torace di una donna, è veramente, veramente ininfluente. Invitiamo poi Simona a fare un bel respiro profondo, un attimino, e valuteremo la simmetria dei due emitoraci. Ecco Simona fa un bel respiro profondo, fuori l'aria, ancora un altro, fuori l'aria, ecco respira normale Simona. In questo caso c'è una leggera prevalenza delle emitorace di destra, perché l'atteggiamento della colonna vertebrale di Simona è lievemente scoliotico, vedete? Quindi c'è una leggerissima prevalenza delle emitorace di destra. Ecco, passiamo quindi adesso alle manovre palpatorie. Le manovre palpatorie iniziano con la valutazione dell'elasticità della gabbia toracica. È una manovra un po' empirica, a dire il vero. Si effettua mettendo le due mani ai fianchi del paziente, verso il basso, e dando dei piccoli colpettini concentrici. Cede ovviamente la gabbia toracica di Simona, Simona è un soggetto molto giovane, e chiaramente nei soggetti giovani si ha una elasticità perfettamente consentita e perfettamente garantita nei due emitoraci, cosa che con l'andare avanti degli anni si perde un pochettino. Seconda manovra palpatoria è la valutazione dell'espansibilità dei due emitoraci. Espansibilità che si valuta facendo fare al paziente una respirazione profonda. Adesso, Simona, io la inviterò a fare una respirazione profonda. Io metterò le mie mani, spero calde a questo punto, le mie mani sui suoi fianchi e le due dita saranno congiunte a livello della colonna vertebrale. Io voluterò la sua norma espansibilità in base al quanto i miei due pollici si distaccheranno l'uno dall'altro. Tendenzialmente si dice che se si staccano di un centimetro o più di un centimetro c'è una norma espansibilità. Anche questo, a dire il vero, è un dato un po' empirico, però è quello che si usa normalmente. Le mani, come vedete, sono al di sotto dell'angolo della scapola. Adesso, Simona, compreso bene quello che vi ho detto, adesso faccio un bel respiro profondo, vedete, si allontanano perfettamente fuori l'aria, ancora una volta, fuori l'aria, ha un torace normo espansibile. Passiamo adesso a quella che è una delle manovre clou, per così dire, di tutta la semiologia medica, ed è la manovra della valutazione di quello che va sotto il nome di fremito vocale tattile. Noi faremo dire una parolina magica alla paziente, che è il 33. Perché questa parola? Potrebbe dire anche 3, 3, 3, rrr, l'importante è che dica una parola dove si combina tr, perché questo può mettere in azione le corde vocali, quindi si mette in movimento tutta la colonna d'aria che c'è tra le corde vocali e la parete del torace di Simona, quindi io, al di fuori della parete del torace di Simona, ci sarà la mia mano e io quindi potrò sentire un fremito provocato sulla mia mano dalla parola 33. Il palmo della mano effettivamente ha una maggiore sensibilità, però devo dire la verità, c'è una parte della mano che è la regione urnare che ha una sensibilità ancora maggiore dell'intero palmo della mano. Comunque ci si può aiutare facendo una valutazione prima comparativa, il mituraggio destro, il mituraggio sinistro e viceversa, e poi dall'alto verso il basso fino ad arrivare alla base dell'emitoraggio. Adesso Simona quindi io la inviterò a dire 33 e valuterò in maniera prima comparativa e poi dall'alto verso il basso come in me giunge questo fremito provocato dal questo suo dire 33. Poi le dirò se va tutto bene o meno. Ecco io appoggio la mano, dica 33. Forte. Benissimo. Ancora. 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 Ecco siamo arrivati verso la base, quindi io adesso uso la parte urnare per vedere fino a che livello mi viene trasmessa questa sensazione. Ancora. Un po' più in alto. Perfetto. Adesso facciamo la stessa manovra. Qui vedete che io non metto la mano per ascoltare il fremito vocale tattile sulla scapola, ma me ne vado sotto l'angolo scapolare. Ancora? 33. Sì? 33. Sì? 33. Grazie Simona. Il fremito vocale tattile nel caso di Simona è normotrasmesso. Se per esempio avessi avuto un mezzo che trasmette poco il suono, come per dire del liquido, io non avrei sentito quasi niente, l'avrei sentito ipotrasmesso o addirittura assente nell'emitorace interessato, per esempio dalla presenza di molto liquido. Un'ultima manovra che non riguarda proprio la valutazione dell'apparato respiratorio, ma che è bene associare alla palpazione del torace in genere, è la valutazione della dolorabilità dei punti costo muscolo vertebrali, detti anche punti di Vallée, che sono praticamente i punti di emergenza dei nervi radicolari. Ecco, io faccio questo movimento lateralmente alla linea spondiloidea. Ha dolore Simona? No. Ecco, non c'è dolore. Se Simona avesse avuto delle radicolite, delle infiammazioni appunto in queste aree, sulle radici dei nervi avrebbe avuto sicuramente una reazione dolorosa. Passiamo adesso alla percussione che utilizza il solito mezzo della mano che fa da plessore e il dito che fa da plessimetro. Ricordatevi che la mano che fa da plessore poggia con le dita aperte, quindi in questo caso non a piatto, ma con le dita aperte, è soltanto il dito su cui io percuoterò poggia con decisione. Le altre dita sono leggermente sollevate, non proprio così come magari può fare un giovane medico in formazione, ma proprio sono appena appena sollevate. Il dito che fa da plessimetro di solito percuote, vedete, medio su medio, sulla falange media o medio terminale, proprio sulla giunzione. Questo è per farvi vedere come avverrà la percussione. La percussione inizia dalla valutazione degli apici polmonari, poi valuta comparativamente i due emitoraci e quindi definirà dall'alto verso il basso la presenza di un suono che va sotto il nome di suono chiaro polmonare e che definiremo meglio al termine dell'esame per poi effettivamente stabilire la espansibilità delle basi. Adesso spieghiamo a Simona che ha mantenuto la posizione. Io adesso percuoterò prima a livello del margine superiore del muscolo trapezio, che vedete indicato, poi invece percuoterò dall'alto verso il basso prima comparativamente e poi quindi in maniera sequenziale tutto a sinistra e tutto a destra e in questo caso lei durante tutto questo esame dovrà fare dei respiri normali, almeno finché io non le dirò per la determinazione delle basi di fare un respiro profondo e trattenere l'aria. Adesso quindi respiri normale. E andiamo a determinare quelle che sono le bandelle di Koenig, ovvero sia degli spazi appunto che si trovano sul margine superiore del muscolo trapezio, anche detto muscolo cubulare. Parto, vedete, dalla base del collo. Cambio completamente. Qui c'è un suono ottuso, completamente ottuso, qui è una ottusità relativa, ecco, vedete qui c'è un suono chiaro polmonare che tende verso l'iperfonesi, ovvero sia qui sotto c'è, vedete bene, c'è un suono ottuso perché c'è dell'osso materiale, del muscolo. Qui invece c'è aria, quindi un suono chiaro polmonare che dimostra appunto la presenza di aria dove io sto percuotendo. Stessa cosa la faremo dall'altra parte. Aria, 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 ottusità relativa, ottusità completa, come prima. Adesso andiamo a fare la percussione lungo le linee paravertebrali oppure lungo la linea che va dall'angolo della scapola fino alla linea che intersega gli dodicesimi archi costali posteriori, non percuoteremo sulla scapola ma possibilmente negli spazi intercostali, prima comparativamente e poi dall'alto verso in basso. Ecco qua. Sono chiaro polmonare. Non c'è differenza tra una parte e l'altra. Non ci sono, mettiamo, aree di ottusità che dimostrerebbero che ci sono degli addensamenti o del liquido. Non ci sono aree con tanta aria ipertimpaniche o fortemente iperfonetiche dove si dimostri che ci sono magari delle sacche di aria. È un suono chiaro polmonare che è quello che io mi aspetto in una persona normale, in una giovana persona normale. Adesso passiamo a determinare le basi, quindi percuotiamo dall'alto verso il basso e a un certo punto quando sentiremo che è finita l'area in cui percuoto e posso reperire il suono chiaro polmonare e passo a un'area di ottusità, vuol dire che lì è il limite in cui il polmone si espande durante una respirazione normale. A questo punto inviterò la paziente a fare un respiro profondo e vedremo se e di quanto le basi scendono. Quindi tenta quando le dirò di respirare profondamente. Ecco, vedete? Ancora un po' più giù. Ecco la differenza. Allora, per cortesia Simona, adesso faccia un bel respiro profondo e trattenga l'aria. Ecco, vedete? Scendiamo quindi ancora. Con un dito fissiamo il limite. Respiri Simona. Ecco, vedete? L'espansibilità della base di Simona, respiri normale, è quattro dita trasverse dall'angolo scapolare inferiore. Vediamo la manovra che si può evidenziare. Scusi un attimo Simona, porti indietro il braccio, portando il braccio posteriormente. Ecco l'angolo della scapola. Comunque è una base che si espande normalmente. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Pettiamo da sopra. Differenza, vedete? Ancora una volta, bel respiro profondo e trattenga l'aria. Ecco, ci spostiamo. Questo è il limite. Respiri. Respiri normale, Simona? Sta respirando? Sì. Benissimo. Ancora quattro dita trasverse. Non c'è da sempre ricordarsi, dire al paziente di respirare, perché sennò chiaramente muore. A questo punto passiamo all'ascoltazione del torace, usando uno steto fonendoscopio dalla parte fonendo, quindi dalla parte con la membrana. L'importante è mettere i canali di ascoltazione nella direzione del canale uditivo del medico e quindi adesso poniamo il fonendoscopio prima comparativamente a destra e a sinistra e poi anche qui dall'alto verso il basso per valutare bene se c'è una variazione tra i campi polmonari superiori e i campi polmonari inferiori. Quindi, Simona, adesso io poggerò questo strumento che spero non sia freddo e la inviterò a fare dei respiri profondi a bocca aperta e piano. Faccia dei bei respiri profondi a bocca aperta del piano. Si? Ancora? Fuori l'area? Ecco ancora. Fuori l'area? Si? 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 Ancora l'aria, sì, ancora, ancora, sì, sì, ecco, grazie. Non ci sono variazioni di sorta rispetto a quello che è un reperto di normalità, di quello che va sotto il nome appunto di murmure vescicolare e che è causato dal rumore che causa il flusso d'aria quando penetra negli alveoli. E cosa avrei potuto sentire? Avrei potuto sentire un'assenza completa del murmure vescicolare se ci fosse stata una ostruzione di uno dei bronchi principali che trasmetteva il rumore dell'aria alla parete del vortice d'aria, alla parete del torace. O sarebbe stata una situazione ben grave, peraltro. Molto più semplicemente avrei potuto sentire dei rumori che noi definiamo umidi, quelli che vanno sotto il nome di rantoli, che è facile ascoltare quando c'è per esempio un fenomeno bronchitico. L'aria passa, muove un pochettino, un po' di muco che può essersi formato a livello dei bronchi anche periferici, anche a livello alveolare. E quindi effettivamente ci sono questi rumori che gli antichi semeiologi definivano a grandi, piccole e medie bolle. Noi definiamo soltanto rantoli perché forse ci sentiamo di meno, abbiamo una minor valutazione uditiva degli antichi semeiologi. E viceversa avrei potuto ascoltare anche rumori secchi. Avete presente l'umore che fa il vento quando passa attraverso una finestra? E' praticamente sibila, fischia durante una notte di tempesta, una finestra socchiusa. Ecco l'aria quando passa attraverso un bronco che è stenotico, che è affetto da uno spasmo, anche un attacco di asma bronchiale, banalissima non tanto per chi la subisce, ma comunque certo non è una cosa grave, ecco può determinare al passaggio dell'aria l'ascoltazione dal punto di vista del medico di sibili, fischi o ancora rumori più pesanti come un russare forte che vanno sotto il nome di bronchi. Vi ringrazio dell'attenzione e qualunque domanda vogliate fare potete farla utilizzando le mail che vedete qui sotto scritte.